Sino! Grazie a tutti! Allora, benvenuti da parte di tutti noi per questa organizza che oggi ci abbandona, per una nuova vita, sicuramente molto ricca di soddisfazioni, bisogna fare la nonna, quindi qual è la cosa più bella che andare a fare la nonna. Grazie per tutto, grazie per quello che ci ha dato e un pensiero a tutti noi. Grazie! Senza baci ma con il cuore, Dani! Non le diamo il bacio, non le diamo il bacio, virtualmente glielo diamo! Esatto! Grazie a tutti! Grazie Dani! Grazie! Grazie! Grazie, Flanzone!